Buonasera mister, partiamo con le domande della conferenza stampa in remoto di fine partita. La prima è di Daniel Miuri di Foggia Calciomania, il quale chiede una sua analisi alla gara e cosa rimprovera ai suoi ragazzi. Cosa rimprovera? Di non aver portato il risultato a casa. Secondo me potevamo fare molto di più. Abbiamo interpretato la partita nel migliore dei modi. Si è riuscita a sbloccare il risultato e lì la squadra si è accontentata. Non ha avuto la forza di chiuderla e purtroppo queste partite bisogna chiuderle. Siamo una squadra che non si può permettere di riassarsi, quindi sono un po' arrabbiato su questo. Tiziano Enrichello di Teleblu dice che la generosità quest'oggi però non ha pagato. Il Francavilla è stato cinico nel raggiungere il pareggio, tanto possesso palla ma solita sterilità in attacco. E' quello il problema nostro perché non riusciamo a creare la situazione per calciare. Diciamo che a differenza di Teramo la squadra ha fatto un po' meglio ma siamo ancora lontani anni luce dalla mia idea di attacco alla profondità di situazioni di gioco in fase offensiva. Un problema in fase offensiva che sono anche evidenziati dal Domenico Carella del Corriere Mezzogiorno nel quale chiede come si risolve questa difficoltà del Foggia nel concretizzare le palle gol e soprattutto quanto sta incidendo la stanchezza per le tante partite giocate a distanza di poco tempo. La stanchezza può essere un alibi perché il giocatore poi quando gioca le energie le trova. Le soluzioni sono di continuare a lavorare, di lavorare molto di più ma soprattutto di crederci che quei concetti che abbiamo ci possono aiutare anche nei momenti difficili a trovare la via del gol. Secondo me li stiamo proponendo poco e una squadra come la nostra deve giocare soltanto nei concetti che conosci. E' un peccato perché poi il pareggio di oggi sminuisce comunque una prestazione secondo me importante sotto l'aspetto di squadra. Però poi torniamo sempre al solito discorso che se non chiudi queste partite poi se le pareggiano appunto come ho detto prima le sminuiscono. Carmine Troisi di Telefoggia e Luciano Gallucci di Tutto Campo.it più o meno insomma analizzano allo stesso modo la gara di oggi chiedendo quanta rabbia c'è oggi per aver chiuso una partita come questa. L'incapacità a tradurre in fase realizzativa il gran lavoro fatto che viene fatto durante la settimana. Se c'è una soluzione qual è la soluzione per risolvere questo problema? È il lavoro, bisogna lavorare. Sono arrabbiato perché queste partite se le sblocchi le devi portare a casa, c'è poco da fare. Perché comunque loro hanno una buona squadra ma credo che nell'ambito della partita che si è vista il Foggia ha dimostrato comunque di ricercarla di più la vittoria. Loro hanno fatto poco e hanno ottenuto tanto. Noi abbiamo provato a far tanto e abbiamo veramente ottenuto poco ma per incapacità nostra perché bisogna che ci svegliamo, che troviamo soluzioni per far sì che comunque il Foggia porta a casa questi risultati perché non possiamo permetterci un rilassamento. L'ultima domanda è di Alberto Mangano del mattino di Foggia il quale le chiede se lei non ritiene che a questa squadra manchi un attaccante puro, considerato come abbiamo già detto insomma il grande possesso palla e a fronte però delle poche occasioni da gol che vengono create. No, no, non dico l'attaccante perché essendo me rispettoso anche verso i miei attaccanti che già ho se non li mettiamo nelle condizioni tali di far gol il primo colpevole è l'allenatore che li allena che non trova le soluzioni per far sì che appunto la squadra sviluppi quei concetti per portare poi gli attaccanti alla fase realizzativa. Però credo che tutti bisogna lavorare di più, bisogna essere più convinti di quello che facciamo perché solo così ne possiamo uscire. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.